Dal 26 novembre al 2 dicembre si riuniranno per il quarto congresso internazionale a Gerusalemme i commissari di Terra Santa, un servizio prezioso ed indispensabile per la custodia di Terra Santa. Vescovi e clero di Terra Santa insieme a centinaia di fedeli hanno partecipato alla messa di saluto e di ringraziamento per Sua Eccellenza Monsignor Bakuni presso la Cattedrale Greco Melchita di Haifa. Fratelli della Salle, uomini che per tre secoli hanno donato la vita a Dio per l'educazione umana e cristiana dei bambini e dei giovani. Il 17 novembre scorso religiosi, laici, volontari e collaboratori della custodia di Terra Santa si sono riuniti per un corso formativo. Nello speciale I Sensi della Terra Santa intraprenderemo un'avventura per esplorare la Terra Santa attraverso i cinque sensi e toccare i luoghi. Nel primo servizio i bei paesaggi della Terra Santa che riempiono gli occhi nel corpo e nell'anima. La custodia di Terra Santa si prepara al IV Congresso Internazionale dei Commissari che si terrà a Gerusalemme dal 26 novembre al 2 dicembre. L'icona ufficiale scelta per il congresso rappresenta l'incontro di San Francesco con il sultano d'Egitto, Malika il Kamel, di cui l'anno prossimo ricorre l'ottavo centenario. All'evento parteciperanno il prefetto della Congregazione per le Chiesi Orientali, il cardinal Leonardo Sandri, il segretario del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Monsignor José Octavio Ruiz Arenas, il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, fra Michael Perry e il custodi di Terra Santa, fra Francesco Patton, oltre a 70 commissari provenienti da tutto il mondo. Il convegno, il congresso per i commissari di Terra Santa sarà un congresso internazionale e quindi sono invitati a partecipare i commissari di Terra Santa di tutte le province dell'Ordine. Il servizio che i commissari di Terra Santa fanno è non solo prezioso ma indispensabile di fatto sono gli ambasciatori della custodia di Terra Santa nel mondo intero e sono un collegamento tra la provincia di Terra Santa, la custodia di Terra Santa e il resto dell'Ordine, ma anche tra la custodia di Terra Santa e la Chiesa Universale. Oltre agli incontri, i presenti avranno la possibilità di partecipare alle celebrazioni nella Basilica del Santo Sepolcro, al Gezzemani e alla preghiera dei Vespri nel Cenacolo, a Gerusalemme. A Betlemme, invece, vivranno l'esperienza di iniziare il Tempo Liturgico dell'Avvento in preparazione al Natale, nella terra in cui nacque Gesù. Sotto la guida dei professori dello Studium Biblicum Franciscanum, i commissari faranno escursioni bibliche e archeologiche. Per il custode di Terra Santa, il servizio dei commissari è fondamentale, anche a livello economico. Svolgono un servizio, come dicevo, indispensabile in quattro direzioni. Quella di far conoscere la Terra Santa, che è fondamentale. Quella di invitare e organizzare il pellegrinaggio in Terra Santa e quindi accompagnare anche i pellegrini, prepararli, fare in modo che il pellegrinaggio diventi un'esperienza di evangelizzazione, di approfondimento della fede. Poi è fondamentale quello che i commissari fanno, anche a livello di sostegno economico, attraverso la colletta del Venerdì Santo, che è una colletta pontificia in tutta la Chiesa, in tutte le parrocchie. Un lavoro importante che si estende anche all'ambito della promozione delle vocazioni. Questa terra non solo è la prima missione dell'Ordine, ma è al tempo stesso la missione affidata direttamente dalla Chiesa. Ha poi concluso il custode di Terra Santa. Il 18 novembre, presso la Cattedrale Greco Melchita di Sant'Elia, si è tenuta a una messa di saluto e di ringraziamento per Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Bakuni, eletto alla sede metropolita di Beirut. Alla celebrazione hanno partecipato il Patriarca Emerito, Sua Eccellenza Monsignor Michel Sabà, il nunzio apostolico in Israele e delegato apostolico per Gerusalemme e la Palestina, Sua Eccellenza Monsignor Leopoldo Girelli, il custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, gli arcivescovi emeriti greco-cattolici di Acri, Monsignor Butrus Muellem e Monsignor Elias Shakur, oltre che a numerosi sacerdoti e fedeli locali. Nella sua omelia, Monsignor Bakuni ha voluto ricordare i primi giorni della sua ordinazione episcopale, sottolineando come 13 anni fa, per la mia ordinazione episcopale, ho indossato la veste su cui è disegnata una pecora a simboleggiare quella perduta e mi è stato detto tu sei un pastore e devi cercare la pecora smarrita e questo è ciò che ho faticato a raggiungere. Ho sperimentato il vostro amore e l'abbondanza dei vostri cuori e vi ringrazio con tutto il mio cuore. Quando sarò in Libano e chiamerò qui ad Haifa, mi verrà da piangere. Vi voglio bene e conosco ciascuno di voi. In occasione dei 300 anni della morte di San Giovanni Battista della Salle, sacerdote francese e fondatore dei Lassalliani, Papa Francesco ha concesso un anno giubilare alla congregazione. L'eredità di questo santo, l'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, si è diffuso e oggi è presente in più di 80 paesi. Chi amministra tutto questo sono i fratelli della Salle, uomini che si consacrano totalmente a Dio, facendo voti di povertà, castità e obbedienza. Dedicano la vita alla missione dell'educazione umana e cristiana di bambini e ragazzi, soprattutto dei più poveri. San Giovanni della Salle ci ha trasmesso i seguenti valori, fede, servizio e fratellanza. Ci ha insegnato a dare priorità alla presenza di Dio a scuola, a preoccuparci dei poveri, a formare gruppi, aiutati da gruppi secolari perché non abbiamo tante vocazioni, per educare con qualità e garantire a tutti l'accesso alla scuola. Un carisma molto attuale nonostante le difficoltà. Il numero dei fratelli lasalliani è superiore a 6.000, ma in passato eravamo circa 20.000. Lo spirito cristiano oggi non è come lo è stato in passato. Nella società prevale la natura materialista e cambiamenti intellettuali dominano gli interessi dei giovani. Molto lavoro, ma anche molte prodezze. Offrire la vita per questa causa è un'autentica vocazione. Questo è il mio quattordicesimo anno in Terra Santa. Dico scherzando che sono venuto per restare tre anni. Ho preso un impegno per tre anni, ma questo è già il mio quattordicesimo anno. Mi piace stare qui. Mi piace davvero lavorare con i giovani palestinesi che serviamo all'università. Prendiamo il nome di fratello proprio perché siamo chiamati a essere fratelli dei giovani che serviamo, fratelli per coloro con cui lavoriamo. Quindi questa è la nostra vocazione. Fratelli Peter ha sottolineato inoltre che la vocazione dei fratelli lasalliani comprende aiutare i giovani a incontrarsi, a comprendersi, a riconoscere i doni e i talenti che Dio ha dato loro e a metterli a servizio degli altri. Un ausilio più che valido di questi tempi. Veri semi sparsi in tutto il mondo e in questa Santa Terra che ha tanto bisogno. Tutto ebbe inizio con Francesco, che 800 anni fa visitò la Terra Santa e desiderò anche personalmente prendersi cura dei luoghi in cui Gesù Cristo aveva vissuto la sua vita terrena. Sin da allora istituì la provincia d'Oltremare, la custodia, che opera ancora oggi, affiancando ai fratti minori, religiosi e religiose di altre congregazioni, collaboratori e volontari che cooperano nei santuari, nelle scuole, nelle biblioteche, nei musei e in tutti gli altri settori della missione che si sono sviluppati nel corso degli anni. Perché il servizio possa essere svolto con frutto è necessario conoscere questa storia pluricentenaria. Per questo è stato promosso il corso di formazione per collaboratori della custodia di Terra Santa. Conoscere per poter amare e per poter servire, conoscere la realtà della Terra Santa e della custodia di Terra Santa per poter partecipare e condividere questa missione, che è una missione, come diceva Papa Paolo VI, provvidenziale e per poter anche poi condividere il servizio, perché i volontari e tutti i collaboratori che collaborano con la custodia di Terra Santa sono anch'essi parte di questa missione. Tra i testimoni che hanno preso la parola, Fra Antonio Luxa. Il francescano ha raccontato la sua esperienza missionaria in Siria e ha incoraggiato i partecipanti a non aver mai paura di annunciare l'amore di Dio. Il Signore che ci ha voluto qui, anche nei pericoli dobbiamo stare saldi, fiduciosi della sua presenza e così come lui ci ha voluto, strumenti della sua pace, strumenti della sua pace per portare la pace ma anche la speranza, anche la speranza a quelle anime che a noi affidate. Il carisma di Francesco è stato confermato dalla Chiesa, che in seguito ha rinnovato più volte ai francescani il mandato di custodire i luoghi santi, una missione alla quale partecipano attivamente, oltre ai frati minori, religiosi, religiose e laici provenienti dai paesi più diversi dei cinque continenti. Iniziamo questa avventura per esplorare la Terra Santa attraverso i nostri cinque sensi. Cominciamo qui, dal deserto della Giudea, un paesaggio arido, secco, che ci viene in mente quando pensiamo al Medio Oriente, alla Terra Santa. Ciò nonostante, scopriremo i colori, la diversità di questa terra che lascia segni nella nostra storia e nel nostro cuore. Gli occhi sono gli organi responsabili del senso della vista. Spiritualmente sono la finestra dell'anima. Nessun luogo potrebbe essere migliore della Terra Santa per sperimentare questo senso. Gli scenari, con le loro bellezze tipiche, ci fanno sapere ciò che Gesù vide con i suoi occhi quando venne qui. La Terra Santa si trova tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. L'area si estende tra i territori di Israele, Cisgiordania, Giordania e Palestina. Molti degli eventi della storia del popolo ebreo e del cristianesimo avvennero in regioni situate in Israele, che ha un'area totale di 27.800 km2. È facile guardare il deserto e immaginare la camminata del popolo ebreo per 40 anni. Le aree desertiche si trovano in maggior parte nel sud del paese. Avanzando, per esempio, nel deserto della Giudea, si arriva a Gerico. La città della Palestina si trova a 240 metri sotto il livello del mare. Bagnato dal mar Mediterraneo, Israele fa brillare gli occhi davanti alla bellezza delle spiagge di Haifa, Tel Aviv, il più grande centro economico del paese, e è Giaffa. In quest'ultima sono avvenuti vari eventi biblici, anche della vita di Pietro. Racconti della vita dell'Apostolo sono ricordati nella chiesa di San Pietro e nella città vecchia di Giaffa, che ha un porto marittimo considerato il più antico del mondo. Qui fu sbarcato il legname del cedro del Libano, usato nella costruzione del tempio all'epoca di Salomone e Zorobabel. A nord nascono le montagne, come le catene del Monte Carmelo. I torrenti che accompagnano la cordigliera mantengono la regione verde per quasi tutto l'anno. Tra le montagne della Galilea e della Samaria, la valle di Jezrael, la regione più agricola di Israele. La vista che si ha dal monte del precipizio a Nazareth, dalla storica città di Megiddo o dal monte Tabor, attesta questa fertilità. L'agricoltura in Israele è uno degli aspetti economici più sviluppati. Nonostante più della metà del paese sia desertico, il sistema di irrigazione è uno dei più avanzati del mondo. «È bello per noi stare qui», affermò Pietro durante l'evento della trasfigurazione di Gesù. Parole che sgorgano dall'esperienza vissuta sul monte Tabor e che anche oggi possono essere pronunciate da chi contempla questo luogo. Chi viene in terra santa da pellegrino fa la salita e arriva con i suoi problemi, le sue difficoltà, le sue preoccupazioni e tutte le cose che non sa come affrontare. È chiamato dal monte Tabor ad avvicinarsi a Gesù. Come disse il padre, «ascoltatelo, questo è mio figlio». L'esperienza del pellegrinaggio è soprattutto ascoltare Dio nella propria vita. Gesù insegna agli apostoli che sopra ogni cosa c'è Dio e Lui è l'unico che può dare la risposta definitiva a tutto. La montagna, nelle sacre scritture, è sempre un luogo di rivelazione di Dio. Come fu con Mosè sull'Oreb e qui sul monte Tabor, dove Gesù si trasfigura ai discepoli, e loro proclamano che è bello trovarsi lì. Ma adesso è ora di scendere e esplorare nuovi cammini, nuovi paesaggi. Gerusalemme, la città icona della Terra Santa, dove si intravede la sfilata delle diversità tra le strade della città vecchia. Dal monte degli Ulivi, la sontuosa cupola dorata del Duomo della Roccia, il luogo più importante per i musulmani. Lì si trova l'antico Tempio di Gerusalemme e proprio di fianco si trova il Muro del Pianto, una parte del Tempio che si è conservata e che appartiene agli ebrei. Una terra piena di sensi e significati, il senso della vista che esplora ogni profilo di questo luogo. Tuttavia, il senso più grande è fare l'esperienza con il Santo della Terra. Nel quarto convegno internazionale, i commissari di Terra Santa si riuniranno a Gerusalemme, perla delle missioni, dal 26 novembre al 2 dicembre. Un programma intenso per parlare della pastorale del pellegrinaggio. Seguiteci in diretta tutti i giorni sul nostro sito.